quando sono sballato io penso che la sicilia sia il posto più bello del mondo non fa niente tutto il giorno perché non gli dice di venire a trovare mio marito dovresti farmi un piccolo favore devi soltanto consegnare una busta e ti suggerisco di andarci in macchina a roma così li puoi nascondere bene scusi ma perché li devo nascondere e quindi tu sei l'uccelli farmi un modo che tutto proceda senza intoppi guarda che lo slavo è uno strano meno ci stiamo è migliore adesso c'è festa io ti ammazzo capisci? ti ammazzo che cazzo stai facendo? dai sali sali veloce veloce a cara dai ora torniamo il tuo amico e risolviamo tutto cario pensi che per me sia divertente venire e cercarti in questo cazzo di Sicilia? io sono preoccupato per mia nipote e tu? altiaguccio piace curiosità su Jurassic Park oggi ci ricordiamo tutti una delle scene più celebri quella della cucina due veloci raptor arrivano ad un passo dai bambini che si sono nascosti per cercare di sfuggire alla loro furia ecco a contribuire all'atmosfera di tensione e di paura che contraddistingue la scena sono i versi anche spaventosi emessi dai due dinosauri bene come hanno fatto ad ottenere quell'effetto? Gary Rydstrom che in Jurassic Park si occupava degli effetti sonori ha svelato che i versi dei dinosauri in quella scena erano quelli emessi da due tartarughe durante l'atto sessuale sì in altre scene si possono sentire versi di diversi animali che si accoppiavano come ad esempio cavalli e asinelli quindi adesso ogni volta che guarderemo quella scena penseremo alle tartarughe in calore mi sa ciao a tutti